Oggi voglio far fare il primo volo libero a Rio. Sono 11 giorni che sta con me, quando l'ho trovato aveva pochissimi giorni, dimostra una grande vitalità, nella gabbietta ha iniziato a svolazzare, quindi perché non concedergli questo momento tutto magico in cui gli apro la gabbietta e vediamo cosa succede? Certo, può anche essere che non succeda nulla, che magari non sia attratto dall'esterno, oppure il contrario. Ho paura, in primis che si perda, però in realtà questa è una zona veranda, quindi se si perde lo ritroverò, e poi ho paura che possa farsi male, però ecco, se va a cercare la luce, queste sono finestre in PVC, quindi sono morbide, quindi dai, tutto sommato, penso di poterlo fare. Allora, vado ad aprire la gabbia e vediamo. E adesso che succede? Che succede? Ora aiuto! Quanto sei bello, Rio! Sei stupendo! Devo salire io? Guarda, non so, mamma, ti smuovo. Ah, ecco, lo sapevo. Vedi? Proprio lì, sulla luce, però è morbido o non si è fatto male? Meno male. Vedi un male? Scusa, fatti un volo. Com'è? Fatti un volo. Dai! Dai, devi fare il volo di qua. Dai, forza, dai. Guarda sulla pianta, forza, dai. E faccia volare, dai. Guarda, ti lancio, eh? Vai. Vola. Ti lancio, eh? Vai. Bravissimo! Sulla mia testa, attento, non mi fai il bisognino. Prima esercitazione di volo conclusa correttamente. Io ho sudato di paura. Comunque, tutto è andato bene. Rio è felice. Ora si rilassa nei suoi spazi. Ai prossimi aggiornamenti. Non mi fai il imagino. Grazie.